Audiola è proprio una sola Due ragazzi alla ricerca del panino perfetto Qual è l'ingrediente numero uno del panino perfetto? Il cavallo! Cavallo! Carne di cavallo! Carne! Cavallo di carne! Carne! Carnallo di carne! Arriviamo cavallo! Non c'è il cavallo! Abbiamo superato un nuovo West Vediamo se lui è quello giusto Secondo te quel camion giallo ha dentro il cavallo? Potrebbe avere cavalli Il camion giallo ha dentro il cavallo Il camion giallo dei cavalli Purtroppo il magrebino non aveva carne di cavallo Dobbiamo cercare altrove Forse da loro il cavallo è sacro Ora io non sono informato sui loro Comunque mi stanno sul cazzo Sì perché comunque hanno un nome difficile da magrebino Troppe consonanti diciamo così Cosa ne pensi? Affano La ricerca è più difficile di quanto avevo previsto Abbiamo un grosso problema Non si trova il paninaro con il cavallo Mi basta anche un Eoipus Con due possibilità di fronte a noi Riusciremo a soddisfare le nostre esigenze Io sono scettico Io sono Pier In questi giorni si è parlato molto della Pasqua Degli agnelli Cioè un problema vivo dell'uccidere l'agnello Piccolo agnello Piccolo agnello Piccolo agnello Che al Garese sarà un mezzo metro un cazzo E noi chi siamo per uccidere gli agnelli? Esatto Nessuno Cioè nessuno io per uccidere l'agnello Sei un povero Ci sono le correnti vegane Le correnti vegetariane Noi abbiamo una soluzione alternativa Che non ci fa apparire né come disagiati Appunto questi vegani Che appunto mangiano l'erba O leccano le pietre La soluzione appunto per evitare di uccidere agnelli indifesi È mangiare carne di cavallo Ora La carne di cavallo Non crea morti Perché il cavallo è già morto Il cavallo muore in silenzio Come potete vedere Il cavallo Sto mordendo il cavallo E nessun cavallo li trisce Il cavallo cade sugli ostacoli e muore Griffin il cavallo è dipinto in maniera malevola Quindi mangiamo carne di cavallo Ecco E viva gli agnelli Basta E soprattutto Forza Silvio Esercito di Silvio Che va a cavallo degli agnelli Perché i cavalli sono morti L'esercito di Silvio Siamo con voi Cazzo dovremmo chiamare di preferente Va bene Buon appetito A trittate Inizio Non è Inizio Il corpo Il corpo Il corpo Cazzo Per forza Italia, per fare e per crescere, per forza Italia c'è grande orgoglio in noi di appartenere a te, ad una gente che rinasce con noi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS